Maestrale forte, quindi bisogna rifugiarsi all'Aqua Dream. Questo che cos'è? Questo è il kamikaze, lo fanno i bambini sopra l'1,30. E' veloce questo? Si, fa 42 chilometri orari all'incirca. E gli altri? Questo A e B sono in Topoca, alcune qua è pieno di curve, alcune tortuose. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.